Sì, mi porto Qua Bundi! No Così Allora Allora Motivo di questo video Questo video è assolutamente improvvisato Non ho assolutamente una scaletta, non so assolutamente che cosa dire Quindi parlerò a vanvera, parlerò tanto per parlare No, la verità è che volevo chiedere, volevo spiegare il motivo di questa mia assenza su YouTube Non so se qualcuno freghi davvero Cioè, non so se possa interessare davvero qualcuno Ma ci potrebbe essere della gente che mi vuole bene Comunque, detto ciò Volevo rassicurarvi sul fatto che non è che non ho più idee Non so più che cosa fare, no Allora, la verità sto continuando a fare delle cose Ho in cantiere almeno 7 video che sto facendo Ma faccio fatica, non ho il tempo di montarli Ho veramente pochissimo tempo per montarli Li sto facendo tra pochissimo La prossima settimana uscirà sicuramente un altro video Inoltre è da quasi un annetto Che ho iniziato un master Dove ho speso tutti i miei risparmi Non ho più un centesimo in questo momento Ma sono sicuro che questa esperienza sarà iperformativa per me Ma i soldi spesi per la formazione non sono mai soldi sprecati Quindi va benissimo, va benissimo così Signori miei, non vi ho abbandonato Datemi un attimo di tempo Anche perché veramente, siccome adesso sto anche studiando Oltre che lavorando E sto aiutando mio nonno a fare delle cose Poi mi sono perso in progetti ambiziosi Si Sto parlando di modifiche del canone sparpatate Sto parlando dei razzi Sto parlando di macchine a pedali Sto parlando di altre cose Moltissime Ci sono alcuni progetti che mi hanno portato via troppo tempo Quindi ho dovuto abbandonare molte cose Tra cui i video Che mi dispiace tantissimo Mi mancano tantissimo Porca vacca Voi che ci crediate o no Dedico almeno mezz'ora Ad allenarmi al giorno E anche su questo qua un video Oh, i video ci sono Manca il tempo per farli Ho giocato con il Lego Ma con lì non ho fatto video Perché è proprio bello Cioè è proprio figo sto coso Cioè tipo si stacca Nei vari pezzi Ho veramente pochissimo 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 tempo E il pochissimo 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 tempo Che ho a disposizione Faccio i video Cioè li giro Già dormo tipo 4 ore a notte Lasciate almeno 1 ora per dormire Signori miei Ci vediamo sul canale Aspettate che arrivo Ciao